Ed ora un progetto importante per i laghi di Sibari, è stato presentato a Cassano all'Oionio, dovrebbe risolvere il problema dell'insabbiamento del canale di Stombi. Dettagli nel servizio di Ilaria Raffaele. Lo sviluppo dei laghi di Sibari passa dai lavori al canale Stombi. Sono tante le iniziative, dalla legge in discussione alla regione per acquistare una pompa, al masterplan dell'autorità di Bacino per costruire delle barriere su tutta la costa a nord e a sud del canale. Da Cassano all'Oionio arriva l'ultima proposta, un progetto per modificare l'imbocco dei laghi e risolvere l'insabbiamento che ogni inverno impedisce l'accesso al porticciolo. I due moli saranno dei moli realizzati con pietrame, saranno proprio queste, delle barriere di altezza variabile fra i 3 metri e i 50 e i 4 metri. Ci sarà un ingresso di circa 50 metri, con un'apertura di 50 metri, un avamporto. Proveremo a trattenere le sabbie prima di farle arrivare dinanzi alla imboccatura del canale. I fondi dovrebbero arrivare dalla programmazione regionale e il progetto sarebbe finanziato con risorse comunitarie. I progettisti che hanno presentato il loro lavoro hanno anche fornito le prime stime sull'opera. Costo 5 milioni di euro, 380 i giorni di lavoro per completarla. Così, dicono, si potrà impedire al fiume Crati di depositare proprio davanti al canale Stombi i 70.000 metri cubi all'anno di detriti che lo bloccano.